La fumata questa volta è di colore bianco. Non ci saranno stravolgimenti al timone tecnico del Biceglie. L'incontro tra il presidente Nicola Canonico e l'attuale timoniere dei Nerazzurri ha prodotto infatti la conferma di Sandro Pochesci in panchina. Sarà l'allenatore romano in pratica a guidare la formazione biscelliese nell'atteso derby di domani con il Monopoli, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C. Si giocherà al Veneziani a partire dalle ore 20 e 45. Si procede in buona sostanza nel segno della continuità dopo una settimana particolarmente tribolata. Già nella mattinata di lunedì, il giorno successivo alla sconfitta interna con il Bari, erano circolate con insistenza voci circa una separazione imminente tra le parti. Il giorno seguente, storia di martedì sera, Canonico e Pochesci al termine di un incontro avevano deciso di prendersi 48 ore di tempo prima di sciogliere le riserve in maniera definitiva sugli scenari futuri. Ieri poi è arrivata la fumata bianca, dopo che, storia invece di mercoledì, il presidente del club, Nerazzurro Stellato, aveva replicato agli attacchi dei dirigenti autoctoni di missionari e rispedito al mittente tutte le accuse circa una mancata solidità economica della società e di una gestione organizzativa deficitaria. Lo stesso Nicola Canonico, durante la riunione di ieri, avrebbe dato anche garanzie al tecnico Pochesci per quanto riguarda la volontà di rinforzare all'organico alla riapertura del mercato, prevista a gennaio per le società professionistiche. Torna dunque un clima più sereno nell'entourage bicegliese. Sta per tornare anche e soprattutto il confronto con il campo. Domani, infatti, c'è il derby con il Monopoli. Il Biceglie ci arriva con 10 punti in classifica e due sole vittorie, entrambe con la valigia da viaggio ottenute in 15 gare. Non hanno mai vinto con Pochesci in panchina e nerazzurri, ma sarà ancora lui a guidare la squadra nell'anticipo dei veneziani.